Eh sì, magari sì Spero che nel gioco normale elimino un po' queste mezze killcam Perché così non è che si capisca più di tanto a dir la verità Le vendevo il kit di assalto che mi è sembrato il migliore fino ad ora Ah, volevo un po' parlarvi anche di quelli che molto probabilmente saranno i miei acquisti autunno-inverno Perché per quanto riguarda l'autunno Sì, l'autunno, vabbè, comunque In parole povere, volevo prendermi I Gears 3 che penso mi farò fare per Natale Poi Mother of the 3 che comprerò a Lancio Per chi interessa Ah, 50€ sono preordinate All'Euronics ve lo danno Ma penso anche se non sono preordinate Perché l'anno scorso il mitico frarco mi aveva detto che Prenotandolo 50€ Io invece sono andato lì il giorno che è uscito Plecops E l'ho pagato 50€ lo stesso Quindi, vabbè, penso che lo prenoterò Perché tanto alla fine non è che mi cambia più di tanto Però ecco, per chi non lo volesse prenotare Io lo dico Allora, poi che altri giochi Ok, Battlefield e me prenderò dall'Inghilterra In quanto vedete in inglese non è che ci siano da capire molte cose Come in code E io non sto trovando più un nemico Magari se mi sbucano fuori Eccolo, ecco, non dovevo parlare Quello campa da lì da quando è iniziata la partita Ma vabbè, ma che arma è poi? Mk11 mod 0 Che livello è questo? Lo si legge 0 No, non è possibile Allora, adesso ho capito dove sei Quindi evito di passare per qua Allora, era una figata se questi treni magari si muovevano Almeno uno, boh, si spostava A parte spostarsi per la mapa Proprio una copertura mobile sarebbe una figata Vabbè, speriamo che Chi venga in mente di fare una cosa del genere Almeno mi farebbero contento Cos'è quello nemico se Lo aspettate Fatemi vedere dove si può passare Allora Merda, ma questo mi segue? Eccolo Dai, crepa! Ma cos'è? Ma perché non muore? Ecco, chi l'assist? Io prendo solo gli assist, va bene? Sono un figo Allora, se lo bene mi fate sponare E riprendo il kit geniere Dai 58 Spawn rimasti ai nemici Via, via, via Devo ucciderli tutti con un amico Lo sto cercando di segnalare Ma non me lo segnala 74 per le distanze Non è capitato benissimo Quindi Ho ricaricato, sì O c'ho sto vizio di aver sempre tutti i colpi nel caricatore Anche quando non serve ricarico Magari questa era una cosa che Non vi avevo mai detto Ma penso l'aveste capito anche dai miei video Ma prima i nemici lo sponavano dall'altra parte Ma non ci sto capendo niente Quello l'amico Dai, corri, corri 5-3 Spawn Mi Inghiera Allora Ecco sono arrivato qua C'era Nel miei 10 Primo Eccoli Vai, vai Adesso campero Tactical camping Spawn killing Dai, dai Allora Arrivano anche da questa parte Scomi, eccoli Vai, uno No Ho cercato di accoltellare alla codmerda Invece si accoltella con il dorsale destro No, che fail Questo è già a livello 3 Quanto sto facendo? 17,9 Wow Allora Stiamo perdendo No, si, dominio Stiamo perdendo Allora Vediamo un po' Comunque ragazzi C'era una cosa che volevo dirvi Ma mi sto dimenticando Che cavolo domingo Ah, si Che Non so se fare Visto che mancano ancora due mesi Non so se fare Un ultimo Super montagione Però ecco, capite Il tempo non è che sia molto Magari cerco di farlo O non lo so Perché Il tempo è poco Perché vabbè Sì, alla fine Due mesi Però Cioè Io non è che sia una bestia Quindi per registrare Mi ci vuole un po' di tempo E quindi Voi non so Scrivetemi magari Nei commenti Se volete che ci provi Oppure se faccia Un che ne so Un episodio 7 Molto più lungo Magari da Due o tre minuti E Lo prendete Come il mio video Di addio A Motorhome 2 E a Core 4 Prima che esca Prima che esca Mv3 Mv3 Comunque Come grafica Ma Dai trailer Come dicevo Anche spesso Nelle conversazioni Tutte Tutta quel graficone Che si vedeva Nei video Era materiale Registrato Dalla versione PC Perché Come era ovvio Sul console Quello perché C'ha una luce Come era ovvio Sul versione console La grafica Sarebbe stata minore Merda Mi dimentico sempre Che ci si può Anche stendere Sono un fesso Allora M4 1 19 19 Dai Adesso Mi sta ossessionando Il punteggio Non so perché Comunque Vai vai Engineer Comunque il video Sta arrivando un po' 13 minuti Quindi magari lo splitterò In due parti Adesso Adesso vediamo Tanto si può fare Di tutto Non vi preoccupate Allora Eh Quelli sono amici Oh Questo non è Se è un amico Eh magari possono fare Un po' più riconoscibili Gli amici dai nemici Ma beh Direte che sei coglione Non li vedi Che sopra Ci hanno La parretta di non so Cos'è quella affare Che gli vola dietro Oddio cos'è Sarà un bug Della vetro Ma te ne fa niente Dai Eh Beh Ficchiamoci giù Nella vetro Belli murale Sè La coltellata no no Si Coltellata così Madonna quanto ballano Sti armi però Un po' l'impresa Sparaci Segniamo Dai 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 Che cazzo è mortale Oh Un po' c'era uno qua Oh comunque figo il salto Eh Vado su io Dai dieci sposti Quanto godo Quanto godo Prima partita In live li stiamo anche battendo Ma godo troppo Eh non venite su Ma come difendi obgetti Ah abbiamo difendi Bene Quindi ce n'è un'altra adesso Oh con la granata L'ho anche ucciso uno Quindi torniamo giù Eh sì decisamente La partita la splitterò Perché a questo punto Stiamo per arrivare al quarto d'ora Quando Ancora non so nemmeno se siamo A metà della partita Ma Ma va bene Così dai Certo che Fare un commenter in line Di tutta questa durata Non me lo sarei mai aspettato Comunque Boh Accogliamo I fatti Per quello che sono Che cavolo ho detto Ok lasciamo perdere Eh difendere Oggetti soggettive Un centubi Se magari mi dici dove sono Ma qua giù Andiamo allora I nemici però Cioè Dai dai dove 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 Fammi vedere dove E poi cambio kit Perché ingegnere ormai mi sta Distruggendo i maroni Eh V black santa Bellone Re Pagliar non invitare Alla chat Che sto facendo in live Ehm I nemici Sporrono la I nemici Mi sono qua Quindi Beh Oh è stufato Dove stai Mi devi dire Dove stai Mi devi dire